Sono profondamente addolorato e condivido insieme all'amministrazione comunale il grande senso di tristrissa e di cordoglio di tutta la comunità che in questi momenti difficili si stringe in un forte abbraccio alla famiglia colpita da un dolore e senso. Sappiamo che in un momento tragico come questo è difficile tenere a frenare ancora l'amarezza perché vanno i giocantumi, il futuro, i sogni, i progetti. La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. Non esistono parole per alleghiare la sofferenza data dalla perdita di una persona cara. Maria Teresa di Colcotto ci dice Il frutto del silenzio è una preghiera. Il frutto della preghiera è la fede che tutti quanti noi crediamo, professiamo e portiamo avanti per il bene comune anche delle nostre paese. Grazie. 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 Grazie.